Buongiorno amici lontani e vicini siamo al comune di Lipari con Peppe Finocchiaro che da oggi è nuovo consigliere comunale al posto del dimissionario Emanuele Carnevale nell'ambito dell'MPA. Un insediamento direi abbastanza travagliato fra virgolette. Sì, alla luce di quanto denunciato dal signor Giulio China che ha messo in atto tutta una macchina affinché si cercasse di far emergere una qualsiasi motivazione di incompatibilità nei miei confronti. Oggi sono felice che l'argomento sia stato trattato in Consiglio Comunale in maniera decisamente approfondita in modo tale da poter sgombrare ogni indubbio da questa macchia che si tentava di mettere su di me. E quindi sono felice che all'unanimità in Consiglio Comunale dopo i chiarimenti richiesti al segretario generale del comune si sia votato favorevolmente alla mia compatibilità con questo Consiglio Comunale. E quindi sono felice e opererò nel migliorare dei modi. A Giulio China che comunque ha preannunciato un ricorso anche al TAR oltre che un esposto, cosa si può dire di fronte a questa situazione che la luce delle dichiarazioni infatti dal segretario dovrebbe essere ben chiara, ben definita? Io ritengo di sì, non ho voluto mai rispondere a quelle che sono state le provocazioni, richiamare così da parte del signor China e continuerò a non farlo perché non accetto e non ho accettato quanto da lui scritto, pubblicato, rammentato e pettegolato direi in giro in merito a me come persona e alla mia famiglia. Gettando anche discredito comunque all'interno del lavoro di una famiglia, di un'azienda che è sempre stata corretta a 360 gradi, ha sempre operato nel migliore dei modi e questo penso sia anche decisamente riconosciuto un po' in tutto l'ambito cittadino. L'ultima cosa, adesso Consigliere Comunale, per dare una sferzata all'andazzo generale, qual è l'intendimento? No, l'intendimento è quello di operare in maniera seria, concreta e serena, quindi cercherò di apportare il mio piccolo contributo nella maniera più seria e serena e niente di più, parteciperò attivamente. Bene, ringraziamo il neoconsigliere comunale Peppe Finocchiaro, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci. Grazie a tutti!